Diciamo, presentazione di una partnership importante con un'azienda, con il titolare, con dei collaboratori che ringrazio perché oggi sono qui e ci hanno aiutato ad organizzare questa conferenza stampa. Andrea, parliamo sempre di partnership e parliamo sempre di rapporti che si sono sviluppati. Durante l'ultimo anno con Angelo stavamo ragionando al volo e diciamo ma quanti anni sono? Due anni fa, c'è no? Ero solo un anno fa, però siamo passati già da un sacco di tempo, insomma i rapporti che si sono sviluppati da te. Buonasera, per continuare a quello che stavi dicendo, con Paolo il rapporto si è iniziato l'anno scorso con Tech Eurard per essere nella nostra maio di gioco, ma i rapporti con Paolo sono iniziati già da un po' di anni. Diciamo che la passione per il volley ha fatto nascere anche questa amicizia e sono molto felice che i nostri valori siano diventati anche loro, anzi, diciamo che i loro valori erano molto simili già ai nostri. Si sono sposati alla grande e anche lo slogan per vincere insieme mi piace da macchi, ma il concetto di unione, il concetto di noi siamo la squadra, la squadra del territorio, la squadra di tutti, è quello che ha sempre trovato forte e spalancato in Tech Eurard. E quindi quando la nostra società, la nostra squadra si predispone al nostro territorio su questa base, diventa più facile anche trovare con elementi come secondo me evolute, perché quello che hanno costruito qua non è poco, Tech Eurard da questa azienda, trovare un matrimonio che possa associare in grandi risultati e mi piacerebbe proprio concludere per vincere insieme. Quindi sono molto orgoglioso di presentare ancora la partnership con Tech Eurard anche per questa stagione, fiducioso che insieme possiamo fare veramente molto bene. Grazie Paolo, grazie Tech Eurard. Tra l'altro abbiamo in tavolo la nostra Supercoppa che, rispetto allo slogan, per iniziare bene, la stagione per l'interessenza, l'inizio è stato di quelli importanti. Siamo felici di rinnovare questa sponsorizzazione che per noi ha due obiettivi, uno esterno all'azienda e uno interno. Quello esterno è il posizionamento del nostro brand, soprattutto sul territorio. Avendo sviluppato l'azienda, un mercato, una partnership con grandissimi gruppi industriali che operano però all'estero, sentiamo anche l'esigenza di confermare quanto siamo legati al nostro territorio. Allora collegare il nostro brand a quella che è la realtà sportiva più rappresentativa, non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche dalla modalità di stare insieme, di stare in campo e cercare di raggiungere questi risultati, dal mio punto di vista è la realtà più rappresentativa di Modena e non solo di Modena. Allora collegare i due brand ci porta di vantaggio ovviamente, ma non è unicamente un collegarsi col brand di Modena Volley. Se noi guardiamo il retro della maglia, assieme a noi ci sono New Holland Agriculture, ci sono Veka, sul davanti c'è Tironi, sono tutte aziende con le quali collaboriamo. C'è ASIN, collaboriamo anche con ASIN, in modo diverso ovviamente ma collaboriamo anche con ASIN. quindi non è solo la partnership con Modena Volley, vogliamo rimarcare una partnership con tutti quanti che vogliono sostenere, trovano bello e utile sostenere Modena Volley. Vorrei però fare riferimento anche a quello che è uno scopo interno, che per noi è importantissimo, e quindi rafforzare all'interno di Tech Airwrap l'idea che i risultati si raggiungono con il team, con tutto il team, non solo con quelli che sono sotto i riflettori, non solo con gli ingegneri, i chimici, i fisici che risolvono i problemi per i clienti, ma con tutto lo staff che sta intorno a loro. Per questo ho molto apprezzato per esempio un post di Giampaolo su LinkedIn dove rendeva noto che Julio Velasco ce l'ha tenuto dopo la vittoria della Supercoppa a ringraziare anche lo staff di quelli che non scendono in campo. ma non mi riferisco a quelli che ancora una volta sono sotto i riflettori, come l'amico Sertoretti che ovviamente anche se non scende più in campo purtroppo, però sotto i riflettori c'è, ma tutte quelle persone che rendono possibile il fatto che questi atleti, questi ragazzi possano scendere in campo tranquilli, possano dare meglio di se stessi e qui c'è veramente di tutto, da chi ti fa trovare la bottiglietta dell'acqua al momento giusto, al posto giusto, a chi fa in modo che le porte si aprano e si chiudano, senza queste persone nel volley, in questa squadra, ma anche nella mia azienda, non è che non vinci o non ottieni risultati, non inizi neanche a giocare, non si parte. Ecco, questi sono i due obiettivi che abbiamo nella nostra sponsorizzazione Modena Volley. Per fare questo abbiamo bisogno di una cosa da Modena Volley, abbiamo bisogno che l'immagine che questo gruppo dà all'esterno, dentro i palazzetti ma sui media, sia un'immagine di un gruppo coeso, sia un'immagine di tecnica, muscoli, sorrisi e abbracci. Noi dobbiamo fare in modo che se le cose vanno così, ok la sconfitta è sempre un problema perché quando perdi però puoi analizzare e questo anche in azienda, se ci comportiamo in questo modo e sbagliamo in qualcosa verso il cliente, possiamo analizzare, possiamo capire dove abbiamo sbagliato. se mancano queste condizioni non si riesce a fare. Per questo abbiamo un'aspettativa come azienda che quest'anno, al di là dei brillantissimi, è iniziato benissimo, guarda lì cosa c'è, ma al di là dei risultati, il risultato che è imprescindibile è proprio questo dell'immagine di come siamo, di come facciamo pallavolo a Modena, di come facciamo azienda a Modena. Questo bravo è tutto. Grazie. Salto, se vuoi commentare l'intervento di Paolo, perché mai ci siamo vituati a speech di alto livello. A direi che il commento è molto semplice, ha centrato quella che deve essere e che sarà la nostra filosofia per questi mesi a venire che accompagneranno a questa stagione. Ma credo che Modena sia sempre stata fondamentalmente questa e non dobbiamo mai uscire da questo binario perché la forza di Modena, della nostra realtà, è prendere appunto dall'unione e dalla pressione di tutti quanti la forza per riuscire a ottenere dei grandi risultati. E quindi ha centrato assolutamente il punto. Grazie. Antonio Romalfa. Buongiorno a tutti. È difficile aggiungere altro rispetto a quello che hanno già detto Andrea e Paolo, rispetto al valore di questo sponsorship per TechEaurab. posso solo rimarcare ancora di più quanto sia importante per TechEaurab mettere in evidenza come alcuni valori aziendali che noi promuoviamo nel nostro interno siano effettivamente anche rappresentati dalla squadra nel modo di stare in campo, nel modo di vivere lo sport, nel modo di stare insieme all'interno del gruppo che siano i giocatori, che siano le persone di staff all'interno. Quindi per noi veramente diventa importante sfruttare tra virgolette questa sponsorship per rimarcare questi valori. sul discorso del coinvolgimento interno, veramente tutti i collaboratori hanno risposto benissimo a quella che è l'intento di essere insieme all'interno della Volley. Rispetto all'anno scorso abbiamo rafforbiato il numero degli abbonamenti e tutti i collaboratori sono stati felici di poter partecipare, di essere coinvolti durante le partite. Dal punto di vista operativo metteremo in piedi anche una serie di attivazioni che hanno proprio questo intento, quello di stimolare alcuni temi che vengono portati avanti dalla squadra e portarli all'interno dell'azienda. Un esempio è stato l'ospicio di Antonio Rossini che abbiamo realizzato l'anno scorso all'interno dell'azienda. La partecipazione è stata molto elevata perché si è percepito effettivamente il valore di quello che ha portato il giocatore all'interno dell'azienda come tematiche. Quindi questo per noi è il valore della partnership con Modena Volley, avere una grande visibilità all'esterno grazie ovviamente al nome e al modo di vivere da pallacolo in un territorio come questo, ma anche un'importanza al nostro interno sulla base di quello che ho detto. Quindi grazie. Grazie. Luca Cantagalli, il nostro assistant coach, ormai sono passati due mesi da quando hai iniziato il lavoro a Pia Modena. Paolo Moscati ha detto tecnica muscoli, sorrisi e abbracci. Quanto è importante l'ultima parte? Sorrisi, abbracci, c'è il clima che si crea all'interno del gruppo per quella che è tutta la tua esperienza da giocatore e della tecnica? Volevo allegrazzare Paolo con questi valori, voi non lo sapete ma ci insegnava già 30-50 anni fa, e forse l'amore è stato il mio primo allenatore. Guarda, poteva anche secondo me essere il suo mestiere, però giustamente ha cambiato strada e devo dire che ha fatto tanto strada. Complimenti, questi valori ce li insegniamo già come noi eravamo dei ragazzi. Ma è importantissimo perché senza valore, senza la gioia, senza sorrisi, senza abbracci, difficilmente si crea un clima giusto per poter far bene. Non serve solo la tecnica, non serve solo i muscoli, non serve molto altro e questo fa parte del dovere del giocatore che deve cercare di rinnovare ogni giorno queste cose anche nell'allenamento, non solo nella vita privata che sono importanti, ma in palestra oltremodo importanti perché ci passano, ci passiamo maggior parte del nostro tempo e si diventano una cosa pesante perché in palestra non si lavorano bene. Questo aspetto è importante tanto come la tecnica, come la preparazione fisica e quello che ci deve riguardare per poter esprimere il massimo delle nostre qualità in campo. Simone Zanni è la prima conferenza di fare un buon sor seduto nella sala stampa, no? Di Moderna vuole fare un debutto di quelli importanti lì, perché è uno del concetto che ha espresso oggi Paolo, Sottolineando Luca, ha detto anche Denis Caliberda in settimana durante la sua conferenza ha detto a Moderna ho capito che mi trovo bene perché andavo a fare l'allenamento e ero contento. Poi magari finiva l'allenamento, non facevo male e allora ero più felice. Tra l'altro Denis non è uno che è molto sparsivo, no? Quindi in qualche modo era felice di fare l'allenamento e sono preso anche in modo giusto, no? Come sono stati queste prime tre settimane così intense in quel di Moderna? Logicamente siamo arrivati tardi, quindi noi abbiamo rispondito la seconda e siamo arrivati più tardi quindi c'è stato poco tempo per lavorare e poi arrivare a quella pompa che siamo riusciti a portare a casa perché la base è stata che ci siamo divertiti, siamo divertiti per conoscerci durante le partite e questo è l'importante. Siete divertiti dicendo che non è male, però devo dire che il clima che si respira in palestra è comunque un clima che mi è successo poche volte all'inizio di avere questo clima goliardico che però non deve tralasciare la processionalità e il modo di affrontare l'allenamento. Quindi per adesso siamo molto contenti di quello che stiamo facendo e logicamente con Giulio e con la superfaccia dei ragazzi lo esettiamo perché adesso ci aspetta un'altra stagione, tutta la stagione che ci porterà poi alla parte più importante perché siamo più off quindi non posso altro che dire che siamo molto contenti. Adesso passiamo anche a Juke, parliamo solo in italiano. No, devo sapere che Juke è iniziato, ormai alla terza lezione di italiano, ma sta facendo anche con gli altri compagni con Franciscovich, con Wes e Kevin e con Bartos. I tuoi primi due mesi a Moderna o quali ero foste? due mesi a Moderna o quali ero foste? Mi piacciono davvero i primi due mesi a Moderna. Especialmente, per me, la parte migliore è sicuramente il allenamento perché è il mio primo clima professionale. Il allenamento è molto diverso da quello che ho avuto. E mi piacciono davvero il livello e il compromesso che i giocatori hanno. sono i primi due mesi che sono stati importanti. Ha trovato un ambiente di alto livello. E quali sono le persone che sono in questo team? Simone e gli altri personaggi? Sono molto buoni. E mi piacciono davvero guardarli nel training e appena molto da loro. E in questo modo si è iniziato. Naturalmente si ispira anche agli altri campioni che sono in squadra per diventare un giocatore migliore, un giocatore più forte. Andiamo anche con le vostre domande. Alessandro potrebbe... Luca, a parte di te. Diciamo dopo tre partite di grande entusiasmo. Così per la prima volta del Fondo Porta d'Inca, no? A Bari ha parlato a luglio di una nuova partita a Milano per essere in forno a quel mondo. Effettivamente è davvero così. In quest'arte, come siete stati questa settimana intera. è assolutamente così. Nel senso che adesso è il periodo che dobbiamo caricare. Assolutamente. Quindi, dal punto di vista fisico, sono aumentati di volume. ragazzi ci sono dei carichi importanti. Ed è chiaro che qualcosina domenica, infatti, non c'è scherzo, lasciamo. Per di più, questo è un po' complicato il nostro cammino, però adesso non andiamo più come ce ne rentano nei campi, ma siamo già alla squadra da battere. Quindi tutti ci vogliono battere e sui campi diventa sempre più difficile. detto questo, è chiaro che non vogliamo assolutamente trovare come il nostro stile delle giustificazioni, però in realtà, ovviamente, visto che comunque a novembre sarà la Champions, noi dobbiamo essere pronti per il momento più importante del campionato. quindi adesso, diciamo che guardiamo più a mettere un po' di fine di cascina. Sappiamo che avremo delle difficoltà in partita che affronteremo, però, sul momento, se fa sciallo al testo, senza andare in campo a dire dobbiamo vincere tutti i costi, questo certo che lo vogliamo, ma sappiamo che rischiamo un po'. La seconda domanda su per me, sei tu che ci hai detto, per l'avevo detto, ti va a Trospecnoz, dopo la finale della Supercoppa, che ci sarebbe stata qualche sorpresa. Giulio lo sta schierando pubblicamente, sei attitolato di una grande fiducia, questo anche per cercare di fargli prendere confidenza con un campionato che non conosce bene, che non conosce bene. Questo si è un ragazzo che ha grandi potenzialità, l'ha dimostrato, deve lavorare, come tanti altri, su certi aspetti, su particolari, sulle eccezioni, sui colpi, ma ha nel suo bagaglio grandi qualità. Credo che dalla prima, in casa, fosse un po' l'emozione di giocare con un brutto scherzo. e comunque ragazze che punturbiamo, su cui puntiamo, perché, come dimostrato nella Supercoppa, ha fatto molto bene e può fare anche il futuro. Deve migliorare, come tanti altri ragazzi. Giuroni che abbiamo, e speriamo che non sia l'unica sorpresa che riusciamo a mettere in campo. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere per quanto riguarda la partnership, perché avete deciso di mantenere sulla maglia la stessa posizione dello scorso anno. Beh, ci sono ragioni economiche su questo, perché, ovviamente, non ci possiamo permettere di essere davanti, dove c'è scritto Azimut Leo Shoes, perché sarebbe stato bellissimo poterlo, ma non ce lo possiamo assolutamente permettere. e invece come posizione sul retro, veramente, perché, guardate chi c'è sopra di noi, c'è Beca, è un'industria bellissima del comparto che noi serviamo, e c'è Newall Agricalcio, altra azienda bellissima, internazionale, proprio dei comparti che noi serviamo. quindi come posizionamento è veramente ottimale. Poi, dal punto di vista economico, quello può spiegare lui, perché... Ma alla fine ci siamo trovati bene. Ci siamo trovati bene. Siamo usciti tutti e due soddisfatti. È una cosa importante, in queste case è una cosa importante. Assolutamente. Alessandro? 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 Altre domande? Vabbè, lì teniamo tutti i segni. C'è. Allora, ti chiedo solamente una a Simone, che mi toglie questa curiosità. Ma è quando arrivato in conferenza, tu sei passato da De Cecco, a Nazionale con Gianelli, e a Maika in queste due settimane. Non ti chiedo niente di tutti i dati, chiedo solamente la differenza tra Maika e gli altri. Ma, sono caratteristiche diverse. Maika è... a parte che è stato premiato come un tagliottore il più forte moglie. Maika è un ragazzo che è arrivato in Italia tre anni fa, tre anni fa, e ha vinto un scudetto dopo un anno, dopo due anni che era qua, quindi non devo presentarlo io. Logicamente faccio un esempio di Luciano, è un altro tipo di giocatore, un po' più... magari più inventivo, che cerca di creare la giocata in ogni pallone. Maika... Maika, per dire, mi trovo veramente bene. Lo so. È stato carissimo. Mi aveva trovato il giusto... E diciamo che sei stato fortunato finora. Sì. Però è andata malissimo. Fino a prima non trovo. Però... anche se non sono un tecnico, posso dire... Vedi. Tre palleggiatori eccezionali, ma hanno avuto una fortuna incredibile, perché lui, sempre e comunque l'ha messa per terra, chi è il profondo palleggiatore. perché dopo la gente dice sempre, no ma... l'anno scorso era mettere la palla per terra, perché c'era De Cecco, il nazionale c'era... C'era Giannelli, adesso c'è anche Mike, quindi... forse un po'... vabbè... un 20%... un investito dei grandi... un investito dei grandi... Un investito dei grandi... Sì, sì, esatto. Prego. Io volevo chiedere ai ragazzi, a Simone e a Lucco, come vedono invece la partita di domenica, quindi la vostra opinione, quella contro Ravella? Lucco, potete messare con Ravella? Thanks, thanks. I'm really looking forward to it. Every match for me is super special, because, like I said, in my last class there were, at maximum, 30-40 people in the stand, so now, for me, it's very... I enjoy it really much. Allora, sta aspettando il match con Ravella, con ansia, con positività, perché lui era abituato alle coscienze, dove c'erano molte meno persone, no? Quindi, ci saranno 3.000 persone, o almeno 3.000 persone, anche Ravella. Anche Ravella. And the fact to... to have a training in Bolfetta with more than... 5... 100 people. Ah, yeah. Special. L'allenamento di Bolfetta di sabato scorso, dove c'erano più di 500 persone, ad aspettare... ad aspettare i ragazzi. Si vuole invece la gara di domenica. No, secondo me è una partita... in una situazione tale, forse è ancora più difficile di quella di Castellano, perché... secondo me hanno degli elementi importanti poi c'è questo ragazzo, che è arrivato quest'anno dall'Ossimburgo, non so pronunciare il nome, quindi non... è stato opposto adesso, e che nel periodo giornate ha giocato molto bene, quindi... poi c'è Salita, che fisicamente torna in Italia durante tanti anni in Francia, che si vorrà comunque rimettere in gioco in modo importante, quindi... secondo me... dobbiamo stare con le antenne ben alzate. Bene, direi che possiamo chiudere qui la conferenza per passare alle interviste con le TV. Facciamo uno scatto di gruppo, dobbiamo fare stare tutti.